Ciao a tutti ragazzi, sono Ede e benvenuti in questo nuovissimo video Siamo qua nel... che cazzo è sta mappa da finocchi? Siamo qua nelle... Nelle Bed Wars con Ale E siamo nella mappa di... delle persone false E la... non vi bastano i 35 euro della Boldrin Come defensa attacca? Cazzo, un attimo Siamo in 6, 3 difendo, 3 attacca, non minghi, tutti che voglio Raga, il letto, proteggete il letto Proteggete il letto Proteggio il letto, più che altro Non stai facendo un cazzo, sei ritardato Dov'è il letto? E' su E' sopra E' sopra Perché non andate su? Portami tipo un... No, vado lo spawn, si hanno già fatto il ponte Ma perché non fanno il ponte? Perché sono stupidi, sono tedeschi Tutte poco Gabri Pond Perché ho fatto sta roba? Io sono un coglione Sì, ma il problema è che io... Non trovo il letto Dove cazzo è il letto? Ma non è... Non è che è sopra quella cazzo di candito di merda qua Dove è il letto? Madonna, bonina Non è neanche sopra sto candito Dove cazzo è? Si può sapere E' nella stanza dietro Ah no, forse è qua Ah no, è qua, è qua, è qua Ho capito dov'è È dentro sto coso qua Sì, ma vabbè, ho capito Minchia, potevo dirmelo Prima io evitavo di... Madonna Ah, è sopra qua, veramente Cioè io ho fatto... E io te l'ho detto Ho fatto tutto il casino per andare su E questi qua Non mi piace Persone false Vediamo chi sono i miei amici Vediamo chi mette mi piace Che poi è bellissimo il fatto che Se metti mi piace ti fai i cazzi suoi Se non metti mi piace sei una spia Devi commentare Devi commentare Devi commentare con mi piace Devi commentare con il... Il mi piace, sì Con Gramsci Il cagnonino Madonna Madonna cara Che cancro che è quella roba lì Gramsci Com'è che si chiama? Ah sì Grumpsi Gramsci Gramsci E' un po' comunista il cane Che caso No, zecca Dove è Salvini in questi casi E' pieno di zecca No Sì, ma qua sto ponte Non si fa da solo, eh Sto gabbè Salerno, Reggio Calabria Sì, è una tostra Ti lascio un po' di gold Vabbè no, vado Guarda che non ci arrivi se non... Ah, vi blocchi Eh, se hai ne avevo In the sound of silence Hello darkness by your friend Le persone false Che cazzo stanno facendo qua Hanno fatto il muro di Berlino Visto Cos'è? Divide il Minecraft test Da Minecraft ovest Beh, oddio ci sta in un server così In un server nazionist Un server tedesco ci sta No, no, ma... Eh sì, gomme laggede Infatti sta chiedendo pure lui No, che cazzo Aspetta, se si scrive così Wotbo Non mi ricordo niente Vorrei scrivere strano in tedesco Ma non mi ricordo come si fa Cristo, guardalo, corre e mi porta indietro Madonna, scolopendro La bestia di Mike Lorefice Madonna, scolopendro No, cazzo, ho messo un blocco che non volevo No, chi è che mi freccia? Merda, c'è qualcuno con la freccia? Io non c'ho neanche l'arco Ritirata, ritirata, ritirata Facciamo come i tedeschi nel 45 Ti direi grazie Oddio, oddio, oddio Ho preso, ho preso, ho preso Ho preso un arco e la sua freccia Che culo Allora Ho un arco e una freccia Se vuoi freccio a caso Sì, vai, vai, vai No, però aspetta Tu stai dietro, io raro Il giallo va nella base rossa Ci conviene che va tanto Cazzo, time free Sì, ma, ok, ok, ok Io ti copro Ti faccio copertura con le frecce Lancio un po' di fuoco a caso Senza voler prendere nessuno Giusto per far paura In realtà non voglio prendere nessuno Perché quella Mi va bene che quella va da dentro Quello però Lo voglio prendere E l'ho preso e l'ho buttato giù Ma qua ci sono delle stats Tipo con i... Sì Con le kill No, con le kill Le kill vanno a partita Le win Le perdite vanno Aspetta, quella è giallo che vanno nella base No, no, fai Ehi, cosa, cosa Dov'è che si scende da qua? Non capisco Tu sei quella, sì, ok Sì Freccia quello, freccia quello sul ponte No, 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 non ho cibo Aspetta, aspetta E io son morto Eh, ho visto che sei morto No, 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 no No, 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 no Tu non vieni morto Questa è una roba di merda Eh, vabbè, abbastanza Sto evitando tutti e tutto Perché ho pochissimi cuori Devo recuperare Aiutami tantissimo Se riesce Lo sto tornando in maniera impressionante Guarda che ritardato Gli ho fatto il giro attorno Non sono accorto Che stupido Che... No, però c'ha C'ha l'arco anche lui eh ma eh m'ho ucciso eh si eh beh eh avevo 5 cuori e mezzo non me ne recuperava eh non è colpa mia cazzo è colpa delle persone false ma tra l'altro basta soffiare sul microfono ma sono io che soffio ah veramente io non me ne ho neanche accorto ma comunque sai cosa ma eravamo in 6 perchè ora siamo in 5 e gli altri in 4 perchè c'è il filtro persone false oh god no dai cristo quanto si vuole ad aprire panati come si chiama stai zinto ho mutato il suono di Ale perchè questo mi mi arriva con il copyright di sicuro siamo c'è ok eh vaffanculo eh vaffanculo i nostri figli eh vaffanculo i politici noto che siamo amati siamo amati solo noi cioè noi in 5 gli altri tutti in 4 eh fosse utile questa cosa perchè hanno messo l'ender chest? eh 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 e quindi? eh cristo cosa? cioè è una roba buona perchè dovrebbe essere cattiva si ma non possiamo più andarci noi ah perchè? non cazzo di senso vado a spaccare Bismuth 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 vado a spaccare si ti sento tranquillo non so neanche come si c'è tedesco se no glielo direi perchè ho fatto tedesco? che scelta di merda veramente vado a dire un cazzo io penso e la gente pensa che io sia bravo in tedesco ma paravo due oh però effettivamente ci vogliono tipo due ore per distruggerla quindi va anche bene che ci stia si ma non è una cattiva idea però no guarda che c'è di nuovo lag cioè salto bu salto per terra ah madonna eh disitalienisce gomme cos'è che è scritto gomme? guarda tipo gomme no vieni qui no 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 l'ho detto io l'ho detto io io sono tedesco non lo senti? ah qui siamo arrivati tutti contro vieni al centro vieni al centro no cristo arrivo 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 ah sto qua ha quittato ok eh no cazzo mi serve il cibo mi serve il cibo resisti resisti tantissimo no aspetta aspetta vieni subito al centro sto cioè per prendere da dietro uno con ecco vaffanculo merda con la strength the potion cazzo veramente c'è la strength quello da si ma non gli dura l'eternità eh si però vorrei ucciderlo sai cosa il problema è che qua stanno facendo un ponte per andare da noi io lo spaccherei anche sto punto onestamente non mi piace se vieni qua tipo e lo spacchi meglio che io stanno rushando stanno rushando dai dai rosa dai gialli mi sa che spaccano il letto dei gialli adesso andiamo a cleanappare a fare qualcosa aspetta mi sto facendo l'arco un attimo che mi finisco l'armatura perchè sta frecciando a me il suo coglione ah no sta frecciando l'altro come cazzo fa a vederlo la madonna complimenti amico mein schwert green kaput eeeh eeeh leckerlick leckerlick il mio schwert eeeh non funziona più leckerlick leckerlick non so cosa voglio dire porca troia come ha preso perchè prende me il verde cristo ma sei scemo sono io sono in un fuoco incrociato che è un po' fuoco amico un po' fuoco amico aspetta cosa facciamo eeeh non so io prenderei io prenderei il gold sotto la eh no l'ha preso lui ops preso dopo non ci avremo preso aspetta devo scrivere una cosa chi è che ma chi è che vuole diventare mio amico si smoot ma che cazzo vuoi cristo adesso non ci vuoi non ci voglio dai devo scrivere una roba vediamo se lo capisci vediamo se lo capisci credo sono abbastanza sicuro che si scriva così cioè che che sia giusto però spero vieni qua nel core del mondo nello solo core omar omar friend cos'è devo fare friend accept ah ok non c'è nessuno al centro perfetto friend accept va bene e friend accept cosa però? ah bismuth ok bismuth quante ore vai? tv uno allora allora i gialli sono in tre aspetta sta arrivando uno rosso al cielo ok gg l'ha buttato giù perfetto i gialli i gialli sono lì ok andiamo dai gialli corri corri vai 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 occhio 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 uno dietro si si ucciso 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 non è vero non è vero niente no 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 blocchi mi sono bloccato eh merda anche loro hanno messo l'endercesto bloccatore ah ci sono anche i rossi dei gialli perchè? perchè i rossi? no 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 faffanculo sono caduto sto piglio di puttana bastardo 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 sto stronzo di merda non mi rompete i coglioni non mi fate nulla cristo no ho fatto tre frecce perchè l'ho fatta eh serve quello d'ora evidentemente eh sono stupido ho fatto tre però uno faccia asper 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 tieni amico mio tieni qua tieni qua tini qua può sempre servire prendi la tua cazzo prendi la tua almeno che eh basta cristo c'è muori guarda che dito in culo che sono questi mh no ed mi stanno uccidendo cosa stai facendo sono la base di gialli guarda che mi stanno anche calando gli fps perché questi stronzi vengo 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 prendere l'armatura mi sono dimenticato madonna che ritardato che sono veramente sono stupido di questo e vaffanculo basta dio che fastidio cristo non sono peggio di un dito in culo aspetta vieni qua c'è madonna tieni questo e tieni questo un po di roba dai meglio di niente cazzo dai che andiamo a lasciare sti stronzi che mi sono rotto il cazzo che sta venendo su una bella partita se e vi ghett's dir che cazzo è ma scritto come stai non so quanto riesco a non so quanto riesco a sostenere sta conversazione perché finora mi ha chiesto come stai e sto a rispondere bene finchè lo mi ha scritto già non lo so chi tieni l'arco ora ho il cancro tieni l'arco aspetta andiamo dai gialli ho l'arco cazzo no ce l'ho pure io solo che dobbiamo buttare giù i burgi ok ok l'ho preso cazzo ma scritto ma scritto una faccina sorridente aspetta stai allo spoon che ti tengo l'arco ti ti do l'arco ma scritto tieni co... ah no non è vero niente però sono due di cosa almeno si ma guarda che cazzo di ponte si stanno facendo quelli la per andare dentro è bellissimo quel ponte la un miracolo di architettura moderna adesso aspetta che faccio io un bel ponte per dimostrare che gli italiani sanno anche fare i ponti si sicuro il ponte di cristo i ponti al sud li fanno con un po' con lo mare e lo sole merda si sta taggando anche a me amico levati dal cazzo gesù cristo levati dal cazzo no eh no ecco madonna madonna di di buono e son caduto sto coglione non si leva le palle avevo l'arco avevo la roba buona tutta roba buona avevo tutta roba buona andiamo al centro per favore che prendiamo un po' di gold questi qua mi hanno anche un po' rotto il cazzo ecco come ecco ho fatto 750 cosi dio bono perché li ho fatti perché li ho fatti nooo di un blocco madonna viene la lebra a sua madre aspetta europei 2016 il galle sta vincendo 3 a 1 3 a 1 addirittura quindi siamo ancora 0 a 0 no è una roba mia questa volta 0 a 0 perché hai fatto così tanti pantaloni perché sono un coglione però godo un pochino perché il belgio mi sta sul cazzo perché sono dei famicchia di merda che sono andati avanti solo a culo perché hanno perso contro di noi e hanno incontrato tipo le squadre di merda tipo d'ucraina cioè no così è l'ungheria quindi vaffanculo cioè godo che il galle vi sta sbattendo fuori dall'europeo stronzi aspetta francia polonia chi ha vinto? francia polonia no non l'hanno giocata no un attimo ieri hanno fatto francia ieri hanno fatto polonia portogallo e vinto portogallo ah polonia portogallo giusto probabilmente quando caricherò sto video si saprà già chi ha vinto i mondiali nel 2018 non gli europei mondiali nel 2018 dai e si avranno 18 anni e potranno votare anch'io potrò votare anch'io sono 2000 mi do del canio da solo però se la cania è grumsi eh il cane è quello di facebook ci sono arrivato anch'io grazie mille quello dei persone false ehm ehm i casse false per shone eh questo è stato un colpo di genio mi sono ricordato come si scrive persone fa odio ass credo si scrivasse comunque vedo che mi cristo però che ponte che hanno fatto madonna eh infatti è bellissimo è un ponte della madonna madonna di dio sono tutti la nel ponte tutti a lasciare pronti cristo santo questi quindi niente bisogna fare le robe da due qua per non perdere la trebisonda cos'è che è? cos'è? 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 ti butto giù 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 vai giù vai 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 forza 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 io sono messo benino però sarebbe ancora più comodo farsi tipo le pozioni nooo nooo oh cazzo oh cazzo oh cazzo cosa ti sei salvato male levati 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 madonna abbiamo morito tantissimo quelle hanno fatto un ponte del gesù cristo effettivamente occhio sono dietro ed è effettivamente il ponte di cristo i rossi arrivano i rossi arrivano al centro dai che si battagliano rossi e blu i comunisti merda merda un cuore un cuore un cuore levati levati tu levati fammi andare avanti a me ok ok arriva un rosso qua arriva un rosso qua una zecca rossi dai 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 ciò un bel ponte no attento no 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 testo dopo visto dopo vai giù vai giù vai giù tantissimo vai giù vai giù vai giù si uuf madonna non bisogna morire ancora per tutto si si the bad of the meal eh si un cazzo i gialli sono in tre cioè cosa ci guadagniamo dalla verona niente però intanto Loro no Ok Il team giallo è morto Non ci posso credere Ho cannato A mettere un blocco Sono stato No vabbè Ho fatto una cazzo d'assurda Verbrocht gold Merda 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 Merdissima Stramerda Per fortuna Per fortuna Ok No cosa So il tedesco Ha scritto A chi serve oro Per fortuna Che so il tedesco Cazzo Ma che cazzo Te lo fa Perché mi ha scritto Verbrocht gold Che vuol dire A chi serve E magari uno che non sa Pensa chi ha oro Cazzo Ho No per una volta Gold di sabere tedesco No sicuramente Cioè Mi sono casato tantissimo Ok io sono al centro E c'ho un bel po' d'oro Ho dieci d'oro Prendi Prendi roba Prendi roba Eh però vieni Perché qui da solo Ikdakte du Braust Ah Pensavo che ti servisse Mi sa che non ha scritto Eh beh fa niente Questi se ci lasciano addosso Ci aprono il culo Io Guarda che io mi sto abbastanza corazzato adesso Ho dicio Non ho molta Cioè Non so messo male adesso Sto arrivando Cioè io ho la spada in iron Quella con 5 di oro E ne fa un botto di danno Però È un po' un casino Perché Perché Ha quittato Gesù Santo Perché ha quittato Sto tipo Ma l'altro Dov'è soprattutto Ah è lì Perché ha quittato Cristo Dio Aveva lasciato un bordello Di roba qua Eh vabbè Allora niente Mi corazzo Fa niente Ah ha lasciato 8 di oro qua dentro Mi faccio Qualcosa Tipo la spada Di No Sta arrivando un rosso Una zecca comunista Eh ma c'è C'è il nostro verde amico che Che freccia Io posso anche io Dare supporto Cazzo Se riuscissi a A prendermi il coso Ecco 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 qua Ecco qua L'arco 13 Ho l'arco 13 Ok Se vengo in base Io ho 16 d'oro Perfetto Vieni Vieni a farti anche tu L'arco 13 Però io ho paura Il punto è che Cristo no Oddio Mi son salvato sul bordo Eh però Perché mi si blocca Madonna Guarda Guarda Che mi torna indietro Per Oh Cristo Un ulcera al culo Questa cosa Che cazzo di ponte Hanno costruito Porca troia Che bello Oh merda Oh merda Oh merda E' un fortino Quella cazzo di cosa Che è bellissimo Comprimente Che cazzo di blumi Che hanno fatto un ponte Della madonna Ma aspetta Se tipo ora che non c'è nessuno Nella loro base Io ci arrivassi Eh io infatti Stavo procedendo anche Di fare così E prendermi una strength Cazzo Guarda Oddio mi sa che non mi hanno visto Questa è healing Questa è healing Dov'è la strength Dov'è la strength Ah ok Sette di oro Aspetta Arrivo con Con quella di jump boost E di speed Cazzo Cazzo troppo Aspetta No aspetta Mi sa che non mi hanno visto Non mi hanno visto Lì distro un colletto Oddio 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 A tutta senza Oh no Che pal Ok ok aspetta Sono col jump boost E la speed Che casino Sono col jump boost E la speed Dov'è che sei Dov'è che sei Dai gialli No No dai blu Dai blu Per blu Dai blu Capito Dai cristo Però ci mettono due ore A spaccarsi le ceste Ehm no Ce l'hai il piccone Si Però inutile Perché qua hanno le ceste Doppie Ok Ok Si 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 Grandissimo Grandissimo E adesso siete Fotto Scrivi Scrivi Italia Germania 4.3 A caso Vai 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 Vabbè 4.3 Stato ucciso Stato ucciso A caso Va bene Va benissimo Va benissimo Merda però sto tornando Guardali i bastardi No mi volevo fare l'arco buono No Che palle Fermo non fare cazzare Però aspetta 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 No aspetta E vabbè anche se muoio il letto noi ce l'abbiamo Ho cannato ho fatto un arco in più Vabbè c'è un arco in più se ti serve Tu Vabbè C'è un arco e una freccia No non è vero No io l'arco ce l'ho Il punto è che non ho No vabbè se Se muori apri la cesta Almeno ce l'hai Subito Aspetta un attimo Aspetta un fotutissimo attimo Oddio non se ne è accorto Vai 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 Guardalo 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 Assassin's Creed Assassin's Creed No si è buttato giù Cazzo Oddio 2 combo 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 Dove sei? Dove cazzo sei? Madonna Madonna che strage Ti stai gasando troppo Eh sì Perché tutto da solo ho fatto Aspetta io prendo una jump boost E un'altra speed E ti vengo a dar supporto Perché io mi sto Mi sto cadendo troppo Con la jump boost e speed Arrivo 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 io Arrivo io Vaffanculo allora E il loro ponte di merda Dove vengono? Guardalo madonna Se lo elimino tutto ti giuro La storia di come un sardo Batte il ponte dei tedeschi No no La storia di come un sardo Batte l'esercito tedesco da solo Arrivo arrivo io Arrivo io Eh cazzo No 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 Sono morto Vaffanculo Però 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 Li ho arati Dov'è che sta il blu? Il blu È alla nostra sinistra Io sono al centro Io sono al centro con roba Mi serve del cibo Portami del cibo al centro Se ce l'hai Eh aspetta Prima mi devo fare la mia di roba C'è un arco In una cesta Prendilo Sì lo so Lo so Eh almeno ce l'hai Io andrei dai rossi Cazzo Cazzo che azione che ho fatto Che culo Vado dai rossi Vado dai rossi Questo lo killo Questo lo haro vai 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 ah no cazzo non c'è il piccone che coglione che sono che coglione sono un pirla sono un pirla sono un pirla ritirata stavo scherzando stavo scherzando attorno a questo punto vado dai gialli cazzo che sono fuori non c'è una minchia dentro ecco sono caduto no ma perché sono così un pirla madonna sto facendo dei dei fail allucinanti se la perdiamo è tutta colpa mia sta a partire perchè sto facendo dei fail assolutamente no è impossibile che la perdiamo come Cristo dovremmo fare eh non lo so però tu stai giocando bene io sto giocando malissimo e tra l'altro non so neanche da quando cazzo sto registrando perché mi sa che la dovrò tagliare ma si la tagli tanto metti i momenti salienti però Cristo avesse un canale l'avrete registrata madonna che scena eh tu la stai giocando bene devo dire da quello che mi dici cazzo non è che sono libero eh oh le vedi dalla chat Cristo eh ho capito si però dipende anche da cosa fai eh cioè aspetta uno sta arrivando dai gialli un blu ecco vacci la io volevo andare la perchè volevo prendere la le loro robe le loro robe eh madonna però c'all'arco mi prende e mi butta giù se ti devo andare a dare il supporto oppure posso un po' no no vivo son vivo però che palle ma ma tanto il blu è solo lui che te frega perché ho fatto l'istante non mi serve cazzo dai no ottio mezzo cuore aspetta 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 ho l'ailink potion ho l'ailink potion ok ti vedo ti vedo ti vedo ti vedo ti ho visto ma guarda che di rossi ce ne sono tre di cui uno è messo male sono gli altri due messi bene io mi farei un piccone andare da rossi ti dico questa roba qua perchè cioè io eh la strength dovremmo avere eh cazzo io posso farmi alla strength ce l'ho ce l'ho ce l'ho ah è tornato bismuth che culo cioè? è il mio amico è tornato quello di prima eh che senso eh ma non rigioina nella stessa partita eh lo so cazzo l'ho visto io eh dove cazzo è il piccone qua più che x grazie io ho della buona roba posso venire aspetta mi faccio jump boost e robo e arrivo perchè io posso assolutamente comandare no no allora piuttosto pozioni le pozioni le pozioni ho tutto io le ho tutte io andiamo a comandare rovazia all'ospedale andiamo a comandare lo segui il fantastico mondo djs? no segui o troppo è troppo bella quella pagina cazzo comunque ora mi sono crattato tantissimo vengo e rascio dai rossi aspetta mi devo fare le pozioni le ammazzo tutti io le pozioni io ce ne ho tre di oro ti lascio della roba allo spawn diciamo i tre di oro dai se cazzo se vieni rascio io fidati di me che ce la faccio aspetta vengo anch'io no tu no dove sei? dove sei? sono nella base di blu bravo e ma il blu è rimasto dove? ah ecco ma perchè sta andando questo qua? no non rascia il nostro amico sta andando oh merda oh merda no 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 che culo me ne sono accorto in tempo madonna che culo aspetta però lo killo lo killo lo killo lo killo c'ho tutte le pozioni del mondo che cazzo ti vengo a dare supporto io a parte che no fermi un attimo fermi un attimo che se ci vanno là no fermi restiamo al centro perchè se qua rasciano dentro guardalo madonna lo ha bravo 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 bravissimo tantissimo bravissimo tantissimo ah rated eppure speed prendono così vaffanculo i rossi proprio venite qui vi aro ok io ho jump boost e tutto ho tutto io ho anche strength eh andiamoci eh sto aspettando a vedere che infrastrutture fa sto tipo infrastrutture perchè vuole frecciare io voglio andare di perpotenza dai però vieni cazzo eh io ci sono solo che non voglio prendere danno e quindi faccio la stradina calma calma la stradina non ho blocchi no non è vero ce l'ha ce l'ha ce l'ha arrivo 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 godo no no che fallo strength arrivo sono fortissimo sono fortissimo non mi possono fare un cazzo non mi possono fare un cazzo sono fortissimo almeno che non mi buttano giù no mi hanno buttato giù porca troia uno senza un cazzo mi ha buttato giù lui merda merda tantissimo merda 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 uno senza un cazzo non avevo un cazzo avevo tutto giù si anche io mi hanno buttato giù ero corattato tantissimo ero corattato benissimo che palle non l'avevo visto dio porca madonna di dio il fastidio che sto avendo in questo momento tu non puoi capire cazzo 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 aspetta tieni questa roba sto buttando avendo una partita della madonna che tutta colpa mia cazzo se perdiamo ah eh però il punto è che loro hanno ancora il letto e questo è il problema cazzo perché se non c'è questo quel menchia di letto dai cazzo 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 che andiamo 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 preparati e andiamo eh 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 ci sei perfetto non ho neanche l'arco vabbè ce l'ho io vabbè mi faccio un po' di pozione almeno dai no perché l'ho già venuta strength non ha senso ah ok ti sei fatto quella lì io faccio jump e la e l'altra adesso mi faccio anche strength vaffanque ok uno si è allontanato dalla base di rossi russia eh russia russia proprio ah no non si è allontanato sono io ritardato e basta aspetta devo fare devo fare da devo fare il arco e frecce tra poco mi finisce tipo l'hard disk e il computer probabilmente se continua così sta dando da troppo tempo sta partita quanto cazzo sta durando arrivo 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 io arrivo io arrivo io con speed ok ok se vieni io vorrei avere più cuore più caldo arrivo io con speed e jump boost non ho strength ottimo ma questi hanno tutti la stessa schema che cazzo sono dei cazzo di gemelli tutti i tre che giocano vicini nella realtà con la stessa linea si sa tanto c'è una fibra cazzo non ho no non ho il cibo ce l'hai un po' di cibo sto arrivando eh però non ho cibo non ho cibo tantissimo lo devi dare dove sei ok ti vedo ti vedo ok lascio io lasciamo lasciamo per favore no devi lasciare tu perché io non sono dietro di te amico ok dai andiamo tu killameli io lo spacco non ci ma cara ma perché il cazzo è sempre quello di che non hai un cazzo che mi killa sempre sempre sciaglio 1 sempre lui è ok aspetta oddio oddio che ci sono è quanto Cristo hanno riempito qua madonna ma vaffanculo che palle che palle si cazzo Ale me ne vinto tu sta partita veramente vi ringrazio da te ora vengo a killarli o dai fa niente aspetta cosa facciamo eh eh però che palle no direttamente killiamo e basta si si non ci giochichiamo un po' no perché poi se ho 46 di gol killato killato tantissimo l'ho buttato giù ho 23 gear e l'altro non so neanche dove sia è finita no che palle che brutta c'è tantissimo no non è brutta è stata bellissima grazie a te eh si però e direi che questa partita è stata anche troppo lunga manco se ne sono accorti e niente ci vediamo al prossimo video ciao a tutti